Carlo Pagani, maestro giardiniere, in visita, in giro per giardini, per orti. Perché sono venuto a visitare questo giardino e questo orto in particolare? Perché mi piace di visitare quei luoghi che hanno una storia e soprattutto sono preparati per il futuro. E naturalmente perché tutto questo accada nel migliore dei modi, servono le persone giuste al posto giusto. Qui ho conosciuto un giovane giardiniere, bravo, bravo perché è volentieroso, perché è curioso, perché è così che deve essere un giardiniere. Certamente perché tutto questo accada, per questa sua scelta ci sarà un motivo, motivo valido che vorrei farmelo raccontare da lui. Poi magari dopo proseguiamo il racconto. Grazie mille Carlo per le buone parole. Intanto, sì, direi cosa fondamentale per un giardiniere è proprio la passione. Passione che intanto si vede in chi fa questo mestiere, almeno in alcuni sicuramente si vede, e che ti porta veramente ad amare in toto quello che si fa, dalla più, come dire, insignificante piantina a quelle invece anche più belle o più significative. Io ho sempre avuto questa passione, diciamo allarghiamola all'ambiente, alla sfera della natura in generale. E poi, diciamo, l'ho preso il mio ramo e sono andato proprio sul giardino, proprio sulla cura, al prendersi cura delle piante, anche in parte la progettazione. E poi un contesto del genere ho trovato e ho avuto la fortuna di trovare un contesto del genere aperto, sia intanto ai giovani, che è già una gran cosa, e poi soprattutto che ti permette veramente di, come dire, poter spaziare sia in termini di conoscenze, quindi di applicarle in un orto, ad esempio, come il nostro, che è un orto giardino. Quindi ha una parte di tradizione sicuramente che è quella dell'orto. Ci sono piante classiche dell'orto, delle più classiche, i pomodori del nonno, ad esempio, che continuo a fare io. E poi in realtà ci sono anche tante innovazioni, una cosa a cui tengo anche molto, essendo, come appunto ha detto Carlo, giovane, sicuramente un occhio verso qualcosa di nuovo, anche verso, insomma, nuove piante, anche nuovi modi di coltivare, e nuovi modi che si adattino anche ad ambienti e dei contesti simili, quindi a delle dimore storiche come questa.